La Regione Toscana è sempre più vicina ai pazienti. I 1300 farmacie pubbliche e private su tutto il territorio regionale saranno accessibili gratuitamente i dispositivi medici necessari per terapie come il diabete, l'incontinenza, per pazienti stomizzati, i prodotti per la medicazione, gli integratori per le malattie rare. Tutto questo grazie ad un accordo siglato tra Regione e Federfarma Toscana e Conf Servizi CISPER. Continuiamo a lavorare insieme alle farmacie pubbliche e private proprio per dare una mano a chi ogni giorno deve ritirare dispositivi medici dei più vari tipi per farli trovare quindi vicino alla residenza delle persone nella farmacia nella quale sono abituate a recarsi anche per altre necessità. Un accordo che migliora l'accesso a questi prodotti essenziali che prima potevano essere ritirati solo nelle farmacie ospedaliere. Si unifica finalmente con un unico accordo regionale le assistenze integrative, cioè l'assistenza per i pazienti diabetici, per i pazienti che hanno bisogno di ausili per stomia, di ausili cateterali, di alimenti speciali e altre branche dell'assistenza integrativa. Le farmacie così prendono in carico questi pazienti migliorando l'accessibilità alle cure anche nei piccoli centri della nostra Regione.